Mi trovo con il dottor Paolo Dalio, geriatra, medico internista, ho detto bene Paolo? Sì. Ci tenevo a farti conoscere al nostro pubblico oggi, perché tu ti sei specializzato con le campane tibetane e sei riuscito a ottenere degli effetti terapeutici e di questo vorrei parlare con te. Sì, premetto che mi occupo prevalentemente di disabilità e quindi i miei pazienti sono molto particolari. L'aspetto terapeutico delle campane tibetane è una parola un po' grossa. Diciamo che ho scoperto che riescono a far star bene le persone, nel senso che guarire? Non lo so. Sicuramente far star bene? Sì. Sono riuscito a risolvere delle crisi di agitazione utilizzando la campana tibetana. Sono un super scettico, quindi se sono qui è perché ho fatto le mie verifiche. Tra l'altro mi hai fatto sperimentare, mi hai fatto provare su di me un po' l'effetto di queste vibrazioni e ho constatato un effetto, non dico stravolgente, ma comunque sia molto efficace. C'è qualcosa che risuona molto forte all'interno del corpo quando queste campane vengono mosse intorno alla persona. Tu poi mi hai fornito della documentazione, io ho potuto vedere che ci sono addirittura degli studi. Uno che hai condotto tu, mi sembra, con dei colleghi. Vorrei saperne un po' di più, mi puoi raccontare di questi due studi? Allora, lo scetticismo nasce spontaneo perché solitamente la campana tibetana viene vista come uno strumento rituale utilizzato da millenni, molto legato al buddismo, molto legato alla spiritualità. In realtà si è notato che la vibrazione prodotta da una campana tibetana è in grado di modificare elettrofisiologicamente l'organismo. Non ci credevo all'inizio perché pensavo fosse suggestione e quindi ho provato a sperimentarla con i miei pazienti che non sono in grado di essere in qualsiasi modo influenzati da quello che può essere l'aspetto esteriore o quant'altro. E ho visto dei risultati, ho approfondito le cose e sono riuscito a trovare degli studi fatti dalla medicina classica tradizionale, la nostra, che dimostrano che la campana tibetana è in grado di, attraverso le sue vibrazioni, di modificare alcuni parametri molto importanti che sono la conducibilità elettrica della cute, la frequenza cardiaca, ma soprattutto l'aumento delle onde alfa cerebrali che sono quelle che precedono il sonno, sono quelle che mettono la quiete nell'animo prima dell'addormentamento. Questi sono dei dati che sono oggettivi e misurati. Le campane quindi entrano in risonanza con che cosa del nostro organismo? Noi viviamo grazie alle vibrazioni, noi siamo vibrazioni, il nostro fluire del sangue, il battito cardiaco, la nostra temperatura, sono tutte vibrazioni. La campana tibetana entra come risonanza maggiore rispetto alle nostre cellule e quindi le sincronizza. Ci sono delle dimostrazioni importanti di come le vibrazioni sono in grado di sincronizzare anche altre vibrazioni, quindi l'effetto della campana è indiretto sul nostro corpo, però ci provoca uno stato armonico. Non c'entra niente se quando si dice oggi mi sento stonato per esempio, e poi c'è una musica che invece mi riporta un po' in asset con me stesso, c'ha qualcosa a che vedere con la... La musicoterapia che è riconosciuta è totalmente diversa dalla terapia fatta con le campane tibetane, perché la musica utilizza degli strati di coscienza superiori, il ritmo, la melodia, i ricordi eccetera eccetera, mentre la vibrazione pulita della campana tibetana che entra in risonanza con il corpo, permette all'individuo di concentrarsi su se stesso e quindi ritrovare quella pace che è nascosta da qualche parte dentro di lui. Quello che io ho sentito quando me l'hai fatto provare, più che concentrato, al contrario, mi sentivo staccato dal tutto e quindi più... sì, concentrato su me stesso, che è come dire uno stato meditativo, un inizio di uno stato meditativo. Hanno dimostrato con delle misurazioni che il risultato della campana tibetana, dal punto di vista elettrofisiologico, è lo stesso che riesce ad avere un meditatore trascendentale professionista. Quindi io riesco attraverso l'uso di uno strumento semplice a darti uno stato di benessere molto molto intenso. Ecco infatti quello che io ho sentito è una sensazione simile a quella che ho provato in precedenza durante una terapia craniosacrale, di entrare in quello stato che assomiglia un po' allo stato meditativo, in cui sei conscio di dove sei, senti le persone intorno a te, ma nello stesso tempo sei anche addormentato. Non saprei come descrivere questa situazione. È un po' la transizione tra la veglia e il sonno. Questa transizione avviene attraverso un aumento delle onde alfa cerebrali. La campana tibetana è in grado di ridurre l'attività delle onde beta cerebrali, che sono quelle della veglia, quelle della concentrazione del pensiero, quindi vengono diminuite queste onde e aumentano le onde alfa. E quindi c'è anche un rilassamento muscolare, perché tipico del sonno, è il rilassamento muscolare che avviene per evitare di correre durante il sogno. La prima applicazione pratica è sullo stress, sullo stato d'ansia, sull'insonnia forse? Assolutamente sì. Sono riuscito a far addormentare alcuni pazienti durante le prove. Molti soggetti solitamente molto aggressivi hanno tollerato molto bene la campana tibetana, anzi si sono rilassati e si sono lasciati andare a stati di grandissima serenità. Tu, come dicevi prima, hai dei pazienti molto particolari, per cui queste applicazioni sono anche più difficili forse da realizzare. Io non utilizzo il messaggio tradizionale, perché sarebbe impossibile utilizzare più campane contemporaneamente. Ho sviluppato una tecnica utilizzando la campana tibetana, una unica campana tibetana, utilizzata prevalentemente per strofinio, più che per percussione, e questa viene tollerata molto bene dai pazienti che la gradiscono e la richiedono anche. Nel tuo campo serve per le applicazioni specifiche, però qual è la gamma di situazioni in cui si può trovare beneficio con queste armonie? La campana tibetana, dal mio punto di vista, però è una mia opinione, non pretende di guarire dalle malattie, però di dare del benessere, sì. Io che lavoro con la disabilità non posso pretendere di guarire i miei pazienti, però dargli del benessere, sì. Quindi io credo che negli stati di stress che ci portano ad essere lontani da noi stessi, la campana tibetana sia assolutamente utile. Mi parli un attimo dello studio, chi ha condotto quello studio che mi hai fatto leggere? L'ho proposto io, più che altro, per riuscire a capire se effettivamente la campana tibetana avesse un effetto placebo, avesse un effetto... Cosa avete fatto in pratica? Abbiamo utilizzato dei pazienti che non sapevano che cos'era la campana tibetana e abbiamo verificato se la loro accettazione e il loro comportamento potesse essere modificato dall'utilizzo della campana tibetana. I risultati sono stati sorprendenti sotto certi punti di vista perché soggetti a volte molto aggressivi si sono lasciati andare e hanno accettato quello che è un corpo estraneo sul loro torace, una situazione che non riuscivano a capire perché è difficile spiegare che cosa stavamo facendo e questo mi ha convinto che la campana tibetana, al di là dell'effetto estetico, dell'effetto scenografico, ha una sua capacità intrinseca. Come pensi di sviluppare questa esperienza adesso? Io non neanche cerco di sviluppare, per me la campana tibetana è una passione, è una passione che cerco di far conoscere alle altre persone perché il terapeuta, tra virgolette, diventa piccolo piccolo ed è la campana che fa quasi tutto il lavoro. Ce lo insegnano anni e anni di civiltà che l'hanno utilizzata a scopi alcune volte religiosi, alcune volte spirituali, però anche con un significato terapeutico. Ci potresti dare qualche accenno storico, qualche traccia di come nasce, come si sviluppa, come veniva utilizzata anticamente? Difficie datare l'origine delle campane tibetane, che sono originari della zona del Tibet, che purtroppo adesso non esiste più, dell'India e del Nepal. Venivano però prevalentemente utilizzate dai monaci nelle loro preghiere abituali, per la loro meditazione. L'effetto terapeutico da loro era più che altro, diciamo, colorito di quelle che sono le cose derivanti dai chakra, dall'astrologia. In effetti le campane sono costituite dai sette elementi che all'epoca corrispondevano ai sette segni zodiacali. Quindi anche ai sette chakra? Ai sette chakra del nostro corpo. Mi ha colpito molto, sia nel libro che mi è passato, che anche in altre informazioni che ho raccolto sul web. Si parla molto dell'intenzione, cioè per far sì che ci sia un effetto poi finale, il terapeuta, o comunque colui che utilizza la campana, deve esprimere, diciamo, la volontà di guarire. Che cosa significa questo? Quando si cerca di far star bene a qualcun altro, si esprime amore. Lo si può fare attraverso un massaggio, lo si può fare attraverso una musica, lo si può fare attraverso la vibrazione della campana tibetana. L'intenzionalità sicuramente è importante. Se ci metto un robot che gira intorno, non è la stessa cosa che se c'è una persona? Questa è una domanda molto difficile e interessante, perché io vedo che spesso le campane lavorano quasi da sole, nel senso che il mio intervento è quasi minimo. Devo avere la pazienza di dare i tempi giusti alle campane. Una cosa molto interessante della campana, e che fa di una campana tibetana una buona campana, è il tempo in cui riesce a continuare a suonare dopo il tocco o dopo lo sfregamento. Più lungo è questo tempo, migliore è il risultato della campana tibetana, perché attenuandosi lentamente la vibrazione, fa in modo che l'individuo che la subisce la ricerchi e ricerca anche se stesso, tanto che si perde e si distanzia dal contesto circostante. Ci dai qualche cenno su come viene realizzata una campana? È prodotta in maniera artigianale, prima di tutto. Ci sono dei maestri che le fanno come qualsiasi strumento musicale, e sono delle tecniche che vengono tramandate di padre in figlio. È stata ripresa recentemente da una ditta argentina, che le fa con tecnologie moderne, ottenendo delle campane dal suono purissimo, però il fascino della campana tibetana rimane mutato. Cos'è una lega? C'è anche dell'oro? C'è anche dell'oro, però c'è anche del piombo. Sono i sette metalli che rappresentavano i sette pianeti conosciuti all'epoca, cioè il Sole e la Luna e pochi altri. Quante campane utilizzi normalmente nelle tue applicazioni? Io ne utilizzo una alla volta, principalmente. Utilizzo campane di medie dimensioni, che sono più tollerate dai miei pazienti, perché le campane più grosse sono anche impegnative dal punto di vista fisico. Le campane più piccole hanno un aspetto, diciamo, più di contorno. La campana deve essere, però, prima di tutto in grado di mantenere la vibrazione per un lungo periodo. Questo dipende dalla qualità del metallo, della lega ottenuta, o di come viene utilizzata? Dipende da chi ha costruito quella campana, come è riuscito a calibrare, perché lo spessore della campana, che di fatto è una ciotola, ha una sua importanza, quindi l'altezza della parete, il diametro della base rispetto alla superficie. Sono tutte delle variabili che danno una voce diversa a ogni campana. Cosa serve introdurre nella campana? Ho visto che si può mettere dell'acqua calda, anche c'è un effetto molto interessante da osservare. Stai parlando della danza dell'acqua, che è molto spettacolare. Quella è la dimostrazione di quanta energia riesce a liberare la vibrazione di una campana tibetana. Teniamo presente che noi siamo fatti per gran parte di acqua, e quindi è una cosa molto interessante capire proprio l'energia che si riesce a trasmettere tramite la campana. Ma si può fare un'applicazione con l'acqua all'interno della campana? C'è un senso per aumentare la sua potenzialità? Io di solito non la utilizzo, non la utilizzo soltanto per dimostrare quella che è l'effettiva vibrazione che può essere prodotta da una campana tibetana. In letteratura qualcuno la utilizza, però ci deve essere un paziente molto collaborante, perché appena si muove, altrimenti l'acqua esce. Quindi diciamo che le applicazioni che si trovano sono molteplici, si possono trovare terapeuti che utilizzano anche tante campane. Tu vai più sul semplice? Vuoi osservare più un effetto chiaro e limpido? Io ho utilizzato il metodo più semplice possibile per far accettare la campana a delle persone a cui non potevo spiegare che cosa servisse la campana. Faccio cantare la campana, ne basta una nelle mie applicazioni. Altre persone, altri terapeuti, utilizzano il messaggio tradizionale che ha tutta un'altra serie di tecniche. Bene, adesso per concludere potresti farci una rapida descrizione di come si svolge una seduta? Allora, innanzitutto si spiega relativamente al paziente, al soggetto che fa il trattamento, che cosa stiamo per fare. Viene fatto stendere in una posizione comoda, in un ambiente possibilmente privo di influenze esterne. Viene indicata la parte del corpo che subirà l'appoggio della campana, solitamente il torace, e poi si comincia la seduta. Si comincia generalmente con una parte di strofinio della campana che mi permette di avere delle note più basse e più equilibrate, più lunghe, più dolci. Poi si parta con delle percussioni, sempre lasciando esaurire il suono della campana in modo che è la campana che fa il lavoro grosso. Una seduta dipende anche dal grado di responsività del soggetto. Può durare dai 10 ai 20 ai 30 minuti. Per oggi ti ringrazio per questa intervista che hai voluto rilasciarci. è molto interessante l'argomento. Ti invito a venire sul nostro canale a rispondere alle domande, perché ci saranno tante domande che i nostri utenti ti faranno. Grazie e alla prossima intervista. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a tutti.